Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi sabato 2 marzo, buon fine settimana a tutti quanti voi. Quali sono i temi fondamentali sui giornali? È presto detto, sono ormai 4-5 giorni, anzi sono mesi, che si parla del treno più pazzo del mondo, che non è quello di quel film fantastico in cui c'era il piloto automatico di gomma, in cui c'erano le donne che vomitavano le uova, in cui c'erano insomma delle gag straordinarie. No, buongiorno a Luca Donadel che vedo che si è collegato ad ora. Il treno più pazzo del mondo è quello che dovrebbe andare tra Torino e Lione e sul quale questo governo dice tutti i giorni una cosa diversa dall'altra. E poi è anche molto difficile stare appresso ai giornali perché ogni giorno smentiscono quello che hanno detto il giorno prima. Ieri era il giorno della Minitav, poi è stato il giorno in cui la Lega aveva trovato un'analisi costi e benefici meno cara. Oggi diciamo lo scoop dei giornali, buongiorno a Cristiano, qual è? Semplice. Secondo i giornali oggi, secondo i Corriere della Sera di oggi, Di Maio avrebbe un sondaggio riservato interno per cui il 70% degli elettori del Movimento 5 Stelle si sarebbero rotti le scatole della posizione notav. A leggere oggi la barzelletta umana, cioè Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, è un giornale che è dedicato completamente a solleticare la minoranza del Movimento 5 Stelle, cioè ormai non è più lo strillone del Movimento 5 Stelle, è lo strillone della componente FICO, Di Battista, Gnugnes, Fattori, insomma di quella parte la morra del Movimento 5 Stelle che ha come caratteristica e filo comune denominatore quello di essere amico di Travaglio e soprattutto giustizialista. Ebbene, che cosa dice oggi? Giuro, giuro, il titolo del fatto di oggi, TAV, Parigi non paga, le gare vanno fermate. Cioè adesso è la colpa di Parigi. È una specie di barzelletta incredibile, basterebbe leggere oggi l'intervista a Lemaire, che è, o come cavolo si chiama, Lamar. Chi era Lamar? Lamar era di un film che era molto divertente. Qual era il film con Lamar? Boh, mi sono dimenticato. Vabbè, comunque il ministro è Lemaire, il ministro dell'economia francese, che fa un'intervista a Repubblica, che dice tutt'altro, cioè che bisogna farla, però per lo scuppone, che è veramente una minchiata del fatto quotidiano, sarebbero le gare non pagate dai francesi. Vabbè, in altro, e peraltro oggi Travaglio scrive, la situazione è di un'evidenza solare. Insomma, io non capisco quale sia l'evidenza solare della inutilità della TAV che sa lui di Battista e diciamo un nucleo storico di no TAV che sono stati diciamo sempre coccolati in effetti dal Movimento. Rixi, sottosegretario, oggi leghista, dove bisogna dare assolutamente il via libera agli appalti, perché se no si perdono 300 milioni di euro, questo dice il sottosegretario, per fare i due tunnel di base, non i due tunnel, i primi due lotti dei tunnel di base. Ovviamente Grillo dice, la parola definitiva, ieri in un concerto, in uno di quei sono inutili show a Torino, dice, è un'idea morta, secondo me è morto che cammina Grillo, purtroppo, ma pensa un po' che questi l'hanno in realtà affandato un partito, Grillo, una merda umana che io non perdo occasione di ricordare quello che è un delinquente, diciamo da un punto di vista ideologico, non da un punto di vista pratico. Da un punto di vista pratico è stato condannato per un assassino, diciamo non voluto, una di quelle cose che succede con gli incidenti di auto, quindi può succedere, facciamo le corna a tutti quanti. Ma lui è un criminale da un punto di vista intellettuale, questo è quello che io penso di Grillo, l'evasore Grillo. Alesina e Giovazzi fanno un pezzo di, se io non ho un giorno di veleno su Grillo, non sono contento. Ricordatevi che Grillo è quello che disse che noi giornalisti dobbiamo essere mangiati e poi vomitati, e noi giornalisti stiamo lì col microfono a pendere dalle labbra di questo stronzo. Va bene? Questo è il concetto. Grillo è una cosa, e i politici che fanno la politica al posto suo, perché non hanno neanche il coraggio di farla lui in prima persona, sono un'altra. C'è un giudizio completamente diverso. Alesina e Giovazzi oggi in un fondo sul Corriere della Sera ci spiegano le lobby che portano voti, le lobby che sono clientelari, dice Giovazzi e alesina quelli dei tassisti contro gli NCC, e devo dire che l'operazione fatta sugli NCC da questo governo è scandalosamente corporativa, e poi cita il caso d'Italia, poi cita il caso della pubblicizzazione dell'acqua, un'altra minchiata stratosferica, e poi tante altre, e le chiusure domenicale. Insomma, dice un sacco di operazioni, dicono Alesina e Giovazzi, se vi interessa sul Corriere della Sera, anti-mercato. I sondaggi che dicono, secondo Pagnoncelli, però io se fossi uno del Movimento 5 Stelle, oggi direi, ragazzi, state attenti sui sondaggi, perché sono gli stessi per cui avete detto che in Sardegna c'era un testo a testa tra destra e sinistra, cioè questi sondaggi non è che ci prendono molto. È vero che in Sardegna avevano già fatto capire il crollo del Movimento 5 Stelle, ma la buona sostanza è che i sondaggi dicono che la Lega è al 36%, un dato pazzesco, secondo me, mentre il 5 Stelle sono al 21,2%. Tiene, anzi, guadagna qualcosa il PD al 18,5%, Forza Italia all'8,6%. Questo è il pacchetto dei sondaggi, secondo Pagnoncelli, oggi sul Corriere della Sera. Ricolfi, molto interessante, come sempre, come sempre, sul messaggero, dice che una cosa fondamentale di questo governo che è pieno di contraddizioni, ma che da questo governo in poi comunque si avrà un cambiamento irreversibile. Ci sono vari pilastri di questo cambiamento, dice, ed ha perfettamente ragione. Non pensate, lo riguardate, guardando il congresso del PD e le primarie del PD, che dopo questo governo, che ovviamente ha tali di quelle contraddizioni che prima o poi cadrà, beh, dopo questo governo si possa ritornare al vecchio, si possa ritornare alla prima repubblica rispetto a questa. Non c'è una prima repubblica prima di questa. Questa è veramente la cesura rispetto al passato. Se pensate che oggi si governa, dice Ricolfi, con addirittura un avversario storico. Due avversari che governano, ora la diamo per acquisita, ma Lega e Movimento 5 Stelle che governano insieme e che hanno un'altissima capacità di compromesso come hanno dimostrato fino ad ora, è incredibile. Riguardo alla PD, vi ho ripetuto ieri, ma lo dico anche oggi, che in altre occasioni le primarie del PD sarebbero state occasioni di pontificazioni su tutti quanti i giornali. L'irrilevanza, peraltro, di un partito che ancora ha un voto su 5 degli italiani, perché 18-20%, un italiano su 5 vota PD. Maggior rispetto forse si dovrebbe avere o forse si è avuto troppo nel passato nei confronti anche degli aliti respirati dal Partito Democratico. peraltro è del tutto... Nicola, l'Ocasio Cortez dice che per salvare l'ambiente non bisogna fare figli. L'Ocasio Cortez, che è una delle bolle mediatiche favolose come solo l'America può fare, mi sembra, come posso dire, vabbè, non mi fate dire parolacce anche in questo caso, mi è bastata su Grillo. Dicevo, intervista a Zingaretti oggi, che dice qualche cosa, secondo lui ci sarà una deflagrazione del Movimento 5 Stelle, verrebbe da dire che di deflagrazioni il partito di Zingaretti se ne intende, quindi converrebbe a dargli ascolto. Dice che non si dimetterebbe se diventasse presidente del Partito Democratico e della Presidenza della Regione e io dico e grazie, anche perché se no come campa Zingaretti, se non con lo stipendio della Presidente della Regione. Dice che il fatto che non arrivino un milione di voti in queste primarie è una cosa che non lo mette per mente in discussione, perché dice per 50.000 persone che hanno votato al referendum sul Russo tutti hanno detto che è un esempio di democrazia. Non tutti hanno detto che è un esempio di democrazia. Detto questo, condivido il fatto che 1.900.000 persone che votano per il segreto del Partito Democratico sono dei numeri incredibili. Pensate, io li vorrei conoscere le persone che domani si mettono in fila a votare il Partito Democratico. Anche perché molti io ne conobbi di persone normali, cioè che io conoscevo, che andavano a votare alle primarie quando c'era Renzi. Bravi, bravi, avete capito tutto, avete votato Renzi e siete lì che adesso era il vostro mito. Bravissimi. Io voglio vedere tutti quei borghesi, tutti quei miei amici che sono andati alle primarie di Renzi. Ora non ci vanno a quelle di Zingaretti? No, andava bene Renzi e non Zingaretti. Bellissimo il pezzo di Veneziani oggi, mi sembra, sul Libero. Quattro scarti in padella, cita i candidati. E il quarto sarebbe Calenda che non è candidato alle primarie. il messaggero sempre contro l'autonomia delle regioni e contro questo progetto di autonomia e intervista, pensate un po' voi sull'autonomia delle regioni? La Lezzi! Cioè, il messaggero riesce a tirar fuori la Lezzi per parlare male delle autonomie e per dire che Roma deve diventare non lo so, più finanziata. Io, no, la verità, scusami Carolina, hai ragione, la verità, veneziani, non libero, ho detto una stupidaggine, ma ne dico Dante qualche volta in queste dirette che faccio con voi per fortuna che siete indulgenti almeno qualcuno di voi. L'ultima storia che vi voglio ricordare di cui vi voglio parlare sono le cosiddette polemiche su Fazio. Fazio questa sera a che tempo che fa insomma una delle sue trasmissioni che io trovo orrende intervista il Presidente della Repubblica Macron. Allora, c'è grande polemica, oggi ho letto Borgonovo anche sul mio sito un po' porca troia, io sono sempre andato a votare adesso e per adesso sono andato a spendere due euro per le primarie, mannaggia, ne ho beccato un altro, adesso non te la prendere, dai, io sai che esagero un pochino. Comunque, la questione di Fazio è molto semplice, cioè Fazio intervista il Presidente Macron questa sera sul Rai 1 e c'è una polemica da parte di alcuni parlamentari ed alcuni osservatori dicendo ma come intervisti Macron? Ma io dico molto semplicemente a me Fazio non mi piace, il suo modo di fare intervista non mi piace ma è in dubbio, ma io mi sono chiesto ma se a te ti avessero proposto per Quarta Repubblica Macron l'avresti intervistato? E certo, ma certo che l'avrei intervistato, ma chi di noi giornalisti non avrebbe intervistato Macron il Presidente della Repubblica francese nel momento in cui ci sono dei problemi con l'Italia, in cui c'è un problema con i cantieri San Nazer in cui c'è un problema con i gile gialli incontrati da Di Maio in cui ha ritirato il nostro ambasciatore in Italia ma ragazzi ma come ci viene in mente che non si possa considerare quello di Fazio un grandissimo colpo giornalistico? Ma com'è possibile? È un grandissimo colpo giornalistico beccare questa sera Macron? Mi stupisco ma mi stupisco che oggi dice che oggi Lameloni suggerisce le domande a Fazio cioè un politico che suggerisce le domande a Fazio da fare al Presidente della Repubblica ma certo che Macron fa schifo come qualcuno di voi lo dice ma come si fa a pensare che non si possa intervistare un interlocutore come il Presidente della Repubblica francese ma in che mondo siamo ma di rabbia di antipatia io capisco Grillo Grillo è una merda ma posto Grillo che lo tiriamo fuori siamo in un paese normale cioè l'uomo che dice vaffanculo lo tiriamo da una parte lo facciamo come possiamo dire finire nel suo brodo ma le persone normali se hanno il Presidente della Repubblica francese a disposizione e possono fare un'intervista la fanno un giornalista la fa una cosa di questo tipo è chiaro? come si fa ad attaccare Fazio perché ha beccato Macron? ah perché farà un'intervista in cui non gli prenderà non gli romperà le balle sul gire giallo eccetera ma perché? ma perché? intanto non l'abbiamo ancora vista probabilmente non lo fa Fazio deve sparire dalla Rai dice qualcuno questo può darsi non vi piace Fazio sono d'accordo con voi a me Fazio non piace preferivo altri ma questo è un altro discorso ma se becca Macron non mi sembra che la polemica con i soldi nostri intervista Macron e chi doveva intervistare? quelli che noi vediamo sempre in televisione che non ci dicono niente il nostro giretto noi che facciamo interviste con i soliti 4, 5, 6, 10 personaggi ma beato lui che c'ha Macron no? chiaro? beh detto questo poi dopo è chiaro il problema non è intervista ma come la fa? dice Andrea a parte il fatto che non l'abbiamo ancora vista io posso pensare che il tuo pregiudizio sia giusto cioè può essere come la fa che non va bene però ragazzi è un colpo giornalistico pazzesco ne riparleremo dopo le domande dice qualcun altro il problema che faccio non farà delle domande farà delle leccate ma Fazio non è Nicola Porro non mi fido sei gentile ma anche io avrei preferito farla da solo forse Macron ha scelto Fazio il problema è che Fazio non fa interviste estende i tampeti rossi Fazio sarà pieno di reverenze a condiscendenza dice Floria Françoise neanche a me è finito tutto Rosario sarà un'intervista apparecchiata ragazzi sì probabilmente sarà un'intervista apparecchiata come sempre purtroppo le interviste si fanno ma quando intervisto la signora Le Pen e tu con Bauro brava Roberta è come sono io con Bauro bravissima è lo stesso principio così come io quando ho Bauro in studio porto avanti cioè un'idea che il 90% di voi non piace beh la stessa cosa avrei fatto con Bauro con 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 Macron insomma ci siamo capiti e il punto è che ci aspettiamo un'intervista di parte di Celibero e vi do un saluto a domani Gerardo è appena entrato ora mi spiace ma la nostra zuppa di oggi è finita ciao 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 ciao